Azzurriamo all'acroclù, quest'atleta a 21 anni viene da Giuliano, esordisce nell'NMA e il team A24 da parete casetta viene Erelia Parigini! Azzurriamo all'acroclù, quest'atleta a 21 anni viene da Giuliano, esordisce nell'Italia Azzurriamo all'acroclù, quest'atleta a 21 anni viene da Giuliano, esordisce nell'Italia Azzurriamo all'acroclù. 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 Allora. 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 cerca di vedere lo spazio per inserire cercare di vedere lo spazio per inserire voglio fuire la schiena voglio fuire la schiena ora basso essere attivo bravo 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 adesso non se lo dico in basso con il braccio sinistro la testa e l'ho a terra e l'ho qua attenzione alle braccia non è mezzo non è mezzo voglio offrire le sue commissioni attenzione attenzione a quella testa attenzione alla testa caricarmi a testa non è niente non è niente attenzione a queste braccia attenzione non te lo occupa sono quasi a due minuti non te lo occupa non te lo occupa due minuti un minuto non c'è nemmeno internet non c'è bene pericolare la testa non c'è bene mi sono svegliato la testa non c'è bene ma ganetto vai non c'è bene non c'è bene non c'è bene non c'è bene 30 secondi, 15 secondi. Attenzione, 10 secondi, 10 secondi, piedi con il cuore, finito il match. Tieni la mezza, tieni la mezza, non ti amico, ti dirà bene, ti dirà bene la mezza. Tieni bene la guardia, cerca di lavorare, l'ho fatto il lavoro, forza, ok, carica la volta, devi alzare, usa le gambe, non levare le gambe, non mai ce l'hai, tieni l'appoggio, cerca una deduccia, forza, tieni la mezza, bravo, ok. Allora, cerca, un minuto. Attenzione, il compito riuscire a scopo, il compito a scopo. Spostalo, spostalo sulla spagna, lascia la sua sinistra. Spostalo, spostalo sulla scena, tira il gomito al cuore, bravo, non c'ha presa, bravo, 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 allora con le gambe non stai lavorando, allora cerca le posizioni, le gambe non stai lavorando, adesso provaro, un minuto, ok, c'entra il gomito al cuore, non c'entra il gomito al cuore, non c'entra il gomito al cuore, non c'entra il gomito al cuore, allora cerca di collaborare, la mezza per prendere la guardia. 30 secondi, caldo, respira. Forza, mancano 40 secondi, mancano 40 secondi, forza, tieni la guardia. 30 secondi, al primo squadro, c'entra il gomito, attenzione a queste braccia, non lasciarle come manca. 10 secondi, 10 secondi, 10 secondi, 5. 10 secondi, 5 secondi, caldo, raspberry bambini, non una cosa suonare, tasca il bambino el gomito al cuore, Senza perché? rinhe la guardia, generosi, ci siِ sete 남ana sinistra, alcuno mantiene un gomito al cuore, Via sta destra! Via sta destra! Tienici la testa abbracciata con la tenenza! Bravo, però devi mantenere la gamba, se no non riesce in fronte! Allarga la base! Se allarga troppo, cerchi di passare sul gioco, non ci fanno in mezzo al gioco! Vai! Non so dai comini, non vado a rialzare che se no adesso mi mette il piano! Vai! 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 Vieni a destra! Vieni a destra! L'ottima! Guarda che tu! Vieni a destra! Vieni a destra! Vieni a destra! Vieni a destra! Mi darà un caso, un e mezzo! Non mi preoccupare! Vieni a destra! Non glielo offrire, non lo vedolo proprio a prestare! Vieni città! Vieni a destra! Non devi cambiare base e scaricare la testa! Vieni a destra! Eh lì ok! Faccio no! Ora! No, si Grazie a tutti Colpi, 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 colpi. Colpi, colpi, colpi. Colpi, colpi. Colpi, colpi, colpi. Colpi, colpi. Colpi, colpi. Colpi, colpi. Colpi, colpi. Colpi, colpi.